Ciao Andrea, benvenuto in Convergenze. Essere impresa tecnologica, far crescere il territorio e mantenere una presenza sul territorio sicuramente è un carattere distintivo nel mondo delle telecomunicazioni e nel mondo delle multiutility in generale. E' un tette in cui abbastanza frequentemente organizziamo degli eventi aziendali piacevole poterlo continuare ad utilizzare così. Noi pensavamo di fare 1030 chilometri, ha girato per un'ora e mezza con batteria zero. Mio padre diceva che io dovevo fare quello che mi sentivo di fare. Io dico un piccolo cambiamento al giorno, è quello che poi costituisce nell'arco dei mesi, degli anni, dei passi da gigante importantissimi. La sicceria vignola sovra e dice, no, sovra, ma non fanno le pelle, signora, adesso facciamo anche dolci panettoni. Grazie. 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 Grazie.